Let's go bitches e benvenuti a questo MLG Class Setup In questo caso, dato che ho parlato nell'episodio precedente di un fucile d'assalto dell'XR2 In questo caso voglio parlarvi di un SMG Ora vi farò vedere, per chi ha seguito la streaming di anime ha visto giocare con quest'arma E sto parlando del Vesper Allora, perché il Vesper è così forte? Per prima cosa, rispetto alle altre armi, come potete vedere dal danno, ha ben 7 tacche di danno rispetto alle altre E la più alta comunque sono quelle del WMP, del Faro e comunque del Cuda Più o meno sono le più alte WMP e Faro, se non sbaglio, dovrebbero averne 8, sì Quindi ha 7 di danno che è tantissimo per un'arma che ha un radio di fuoco del genere Cioè, guardate, la cadenza è praticamente massima Quindi quest'arma è un tritacarne Per quanto riguarda la precisione non è molto precisa Ma questa è un'arma da scontrire avvicinati È molto più simile a quello che è lo Scorpion di Black Ops 2 Non so se ve lo ricordate Comunque, quello che consiglio io su quest'arma Sono il caricatore aumentato in modo da avere 42 colpi e poter sprayare praticamente all'infinito Il mirino laser in modo da poter sparare Nipfire Dato che quest'arma è veramente forte se vi state muovendo Nipfire, cioè senza mirare Eppure perché potrete iniziare a sparare prima Nipfire E poi mirare in modo così da aumentare l'automira e agganciare subito l'avversario Shotta con una decina di colpi più o meno quindi sarà facilissimo Utilizzo poi due amp perché mi piacciono tantissimo non far vedere la mappa all'avversario E comunque cercare di capire dove sono le persone attraverso i muri Utilizzo poi anti-skedge, prestigiatore sempre e propulsione furtiva e in più maschera tattica Utilizzo solo due accessori in modo da poter avere due perk che mi consentono di poter stare nelle heal Di poter rushare e correre tranquillamente e non essere fermato né da granate, esplosivi Né quasi da un hailstorm diciamo E nemmeno dalle stun o flashbang Quest'arma potrete fare tranquillamente, terribile e velocemente Dovute comunque al suo alto danno e al suo radio di fuoco Come vedete vi basta saltare, usare Nipfire Cercare di sparare comunque sempre senza mirare e poi mirare all'ultimo Perché è quella la cosa fondamentale di quest'arma Utilizzata con questi accessori Quindi mi raccomando Butchers Fatemi sapere come vi trovate con quest'arma Fatemi sapere se vi piace Se è come è stato diciamo per la classe con l'XR2 Io consiglio questo come SMG primario È forse uno dei più forti tra tutti gli SMG in circolazione Quindi sì, best per tutta la vita Praticamente il nuovo Scorpion Un pochino forse più potente perché Non c'è ancora un vero e proprio MSMC O PDV come era su Black Ops 2 Io vi saluto Butchers Ci becchiamo al prossimo video Let's go! Let's go! Let's go!